No, ma io credo che non ci siano fatti così da giustificare un intervento appropriato in Parlamento. Magari invece poi ci andrà, visto che è diverso, o che comunque insieme ai 5 Stelle adesso ci sta anche Conte e che li rappresenta molto bene, ci andrà lui a spiegare il suo rapporto con i servizi segreti. Ognuno è libero poi di decidere.